Brooklyn! Buongiorno amici dello giacolo duro, prendo la linea dal ponte di Brooklyn come si può vedere guarda c'è anche lo skyline di Manhattan, allora mancano poche ore alla partita Inter-Juventus Big Match della domenica, non so se riuscirò a pubblicare il video prima della partita spero di sì, penso di sì perché adesso andrò a Little Italy per vedere la partita perché anche se sono negli States, seguo il campionato italiano soprattutto la partita più importante dell'anno perché oggi è la partita più importante dell'anno, l'Inter per sperare ancora nella lotta Champions e la Juventus e anche il Napoli per la lotta Scudetto, quindi vi saluto dal ponte di Brooklyn con lo skyline ci vediamo, ci vediamo post partita, cercate di fare una bella partita, speriamo non in uno 0-0 un po' di emozioni, anche se sarà una gara molto chiusa secondo me, decisa da episodi ma lo scopriremo fra qualche ora, ciao ragazzi!